Luca Telese, prossimo premiato al premio nazionale Peschereccio d'Oro. Oggi ci siamo incontrati a Roma per cercare di organizzarci al meglio per il suo arrivo a Mazzara del Vallo, anzi per il suo ritorno perché a Mazzara c'è già stato. Sì perché io amo Mazzara, Mazzara non è un comune della Sicilia, Mazzara è un luogo del mondo, sono le porte del Mediterraneo, è la capitale del Gambero e la sintesi di tutto quello che è il mare, di quello che amiamo, il peschereccio che attraversa i flutti con dietro i raggi del sole è una bellissima bandiera che poi avete disegnato per questa città. Quindi vengo perché se non avessi avuto in premio quella placca la sei venuto a rubare a qualcun altro dei premiati. Ma una cosa che mi piace molto è che quando tu dici, cerchi qualcuno che sta sulle rotte, che sta al confine dei mari, che sta dentro questo grande mare che è allo stesso tempo una porta, un contenitore, una speranza, e lì ci sono i pescatori mazzaresi, non c'è nessun altro. Quindi fare cultura a Mazzara vuol dire stare affacciati sulle porte del mondo. La promozione attraverso la consegna di un premio è di notevole riconoscenza, soprattutto anche di messaggio. È chiaro che il premio nazionale peschereccio d'oro è insegnato a Luca Telese per la sua penna magica, come chiamo io. Lui ha scritto diversi libri, è stato conduttore televisivo di notevoli programmi che hanno avuto grande audience. Lo sono tutt'ora, tra un po' dopo appenderò gli scarpini al chiodo e verrò lì sul lungomare. Esattamente, ma hai scritto tanti libri, è grande opinionista in tutti i programmi televisivi, non hai peli sulla lingua, non ti sfugge niente. Ma questo sì, perché il mondo si divide in quelli che hanno peli sulla lingua e quelli che non ce li hanno. Io per fortuna appartengo a questa seconda categoria. Si paga a qualche prezzo, però poi si incontrano le persone migliori, i matti, come mi chiamo io, i matti che non hanno catena ai piedi e neanche nel cervello. Poi sai, Sciascia diceva sempre, uomini, uomini, mezzuomini. No, c'è un altro, piglio in culo, scusate il termine. E qua, qua, qua. Avete visto, non ha peli sulla lingua. Quindi noi siamo nelle prime categorie. Luca Tellesse, tra l'altro avrei il piacere di incontrare anche il mondo della scuola. Per parlare di cultura, per parlare di libri. Sì, sì, perché i libri sono l'ultima salvezza. Tutti noi pensiamo, dobbiamo fare sforzi sorumani, magari per convincere i nostri figli a leggere un libro come se fosse una condanna a morte, ma poi ognuno di noi, sempre, io di questo ne sono convinto, ha un libro che gli salva la vita. Anche chi ne ha letto dieci, ce n'è uno che gli salva l'anima e che magari è scritto in un'altra parte del mondo e che però parla di lui, del suo problema, del suo amore, della sua ossessione. E questa è la cosa più bella e magica che può fare la letteratura. I libri sono i racconti della vita che rimangono indelebili in ognuno di noi. Tutti siamo rappresentati in quello che viene scritto in qualsiasi pagina di un libro. E in quello che sta per uscire, che è l'ultima tua opera letteraria, di cosa si parlerà? Ma ho fatto... a me piace raccontare le storie delle persone. Quindi Elisabetta Sgarbi, che è un altro geniaccio dell'editoria, mi ha detto ma tu dovresti fare un atlante, dovresti raccontare tutti questi personaggi che girano intorno alla politica contemporanea. Quindi mi sono messo a fare questo lavoro e mi sono divertito perché oggi la politica è noiosa, mentre invece le storie, le biografie, come quello è arrivato lì, come quello è arrivato là, che cosa ha fatto, i compromessi che ha rifiutato, accettato, è sempre interessante. Però sostanzialmente parlo anche di un problema serio, cioè la legge elettorale che abbiamo ha sottratto gli eletti al controllo degli elettori. Infatti il libro parte dallo spiegare perché se noi vogliamo ritornare a una repubblica in cui la sovranità appartiene al popolo dobbiamo poter dire di destra, di sinistra, in alto, in basso, al centro, a destra, però io ti devo controllare perché se no fanno quello che vogliono loro. Allora diamo appuntamento al Premio Nazionale Peschereccio d'Oro, 16esima edizione, a Mazzara del Vallo, in data venerdì 5 aprile. Vi aspettiamo tutti quanti insieme. Preparatevi, mi raccomando, giorno e notte in attesa e poi ci sarà questa grandissima serata, una kermess, no? Una kermess all'insegna della cultura. Vengono dall'Amerika, dall'Australia e poi ci sarò anch'io. Grazie Luca. Ciao. Ti aspettiamo a Mazzara del Vallo.